dobbiamo dimostrare di essere questi perché per me sarebbe un grande successo come squadra riconoscersi nelle partite non solo per il gioco ovvio a tutti gli animatori credo che piacerebbe una squadra che gioca sempre che soffre che che difende tutti insieme noi sul giocare abbiamo pochi dubbi sappiamo qual è la nostra identità delle volte ci riusciamo di più delle volte meno però delle volte abbiamo dimenticato che l'identità di una squadra è anche il accettare le difficoltà viverle da squadra mettere disponibilità nelle ultime partite nell'ultima si è visto questo e questo è quello che fa la differenza se poi metti il resto tutto questo potrebbe non bastare domani bisogna dirlo sono una squadra forte una squadra che in questo momento ha dei numeri pazzeschi se ne parla giustamente per merito del napoli però da parte nostra ci deve essere quella piccola presunzione tra virgolette però di pensare di poter battere il napoli sapendo che di possibilità in campo ne avremo probabilmente meno di loro dovremo essere bravi a difenderci dovremo essere bravi ad attaccare all'andata lo siamo stati nell'attaccare bravi poi non siamo stati efficaci magari nel finalizzare siamo stati molto meno bravi nel difenderci dovremmo essere più più bravi se vorremmo mantenere la partita in equilibrio ottenere il risultato positivo se pensiamo di avere tra virgolette tu l'hai chiamato piano gara unico il napoli te lo stravolge perché intanto in campo decide tanto anche il napoli quindi devi essere bravo ad adeguarti alla partita che 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 avrai di che avremo di fronte fermo restando che sono convinto che che potremmo determinare anche noi delle cose però dovremmo essere bravi a modellarci in funzione non solo di quello che pensiamo di poter fare ma anche di quello che il napoli non ci permetterà di fare o farà e quindi dovremmo essere bravi a a stare nella partita e quindi nel nelle partite che si cre si creeranno dentro la partita perché perché ci sarà da soffrire perché ci sarà da far partita bisogna aver coraggio per giocare perché non possiamo concedere la palla al napoli tutta la partita abbiamo perso se concediamo la palla al napoli tutta la partita hai perso perché perché ora come dicevi tu sanno fare tante cose invece bisogna pensare di poter mettere in difficoltà perché perché napoli può essere messo in difficoltà dalle nostre qualità sappiamo però che loro sicuramente hanno le qualità per metterci in difficoltà sì ovviamente le qualità di domenico questa squadra non ce l'ha nessuno bairami ha qualità diverse l'ha interpretato bene secondo me poteva far meglio sì l'ha interpretato bene sì potrebbe essere bairami il vice berardi se puntini 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 dobbiamo allenarci oggi rifinitura domani valuteremo tra oggi e domani mattina sì sicuramente c'è un po tutto quello che dicevi c'è il vabbè se va male come a tutte le altre che hanno affrontato al napoli però sinceramente non è che mi piaccia tanto in questo momento perché noi abbiamo una nostra identità abbiamo fatto partite migliori tecnicamente magari alcune meno però come identità di squadra domani dobbiamo riconoscerci e mi sembra strano parlare come identità non del gioco però mi aspetto che la squadra abbia coraggio nel giocare e ancor di più che la squadra sia squadra dall'inizio alla fine dovremmo essere più bravi delle partite giocate precedentemente con napoli soprattutto a napoli perché nelle ultime due a napoli siamo partiti con l'handicap perché 2 a 0 subito all'andata l'anno scorso 3 a 0 in 20 minuti certo che poi diventa veramente in salita ma a prescindere da questo dovremmo essere coraggiosi con la palla e squadra senza e e ancor prima squadra senza ma allo stesso tempo come dicevo prima quanto collega se non hai la consapevolezza barra presunzione il coraggio di dire gli faccio gol posso fargli gol abbiamo le qualità per fargli gol e questo non dicono di gol presunzione lo penso abbiamo le qualità per fargli gol ci dobbiamo provare mi aspetto a napoli che che voglia ora andare su tutti i campi per vincere perché hanno quella sicurezza che che te la danno i risultati il gioco le qualità individuali l'organizzazione e quindi ora napoli gioca tutte ma lo si vede gioca tutte le partite per vincere come giusto che sia quindi da un certo punto di vista mi aspetto un napoli molto arrembante come come sempre stato questo ci metterà in difficoltà ma ci permetterà allo stesso tempo di avere delle delle situazioni noi siamo siamo vicini a alle squadre che ci stanno davanti e vicino alle squadre che ci stanno dietro quindi dobbiamo guardare quella che ci sta dietro e quella che ci sta davanti certo che ci siamo perché siamo lì non è che siamo come dico non siamo guariti ma a prescindere uno deve avere l'umiltà di e la consapevolezza di capire qual è l'obiettivo attuale qual è l'obiettivo quotidiano e la consapevolezza che stiamo acquisendo togliendoci un po di presunzione che avevamo per 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 lottare per andare a prendere quella davanti o per lasciare a quella una accanto a te perché poi alla fine siamo siamo tante vicine come squadre in alcuni giocatori abbiamo delle qualità che possono che possono limitare o si ma fondamentalmente noi dobbiamo limitare il napoli e parlo di limitare perché alcune cose napoli le farà prescindere le fa con tutti quindi limitare il napoli da squadra e mettere in difficoltà da squadra se poi nella squadra i singoli sono prestativi noi abbiamo qualità individuali sia per difenderci ma e soprattutto è ancora di più per attaccare ma nella squadra quindi per difendere se gli esterni non correranno indietro loro avranno sempre superiorità esterna e superiorità esterna del napoli significa che smuovi qualcosa dalla zona centrale e perdi qualcosa in area di rigore se avremo gli esterni prestativi in fase difensiva in fase offensiva difenderemo meglio e attaccheremo bene perché abbiamo esterni che mettono in difficoltà tutte tutti i giocatori della serie a tutti possono mettere in difficoltà cioè tutti i difensori della serie a possono essere messi in difficoltà dai nostri giocatori offensivi al tempo stesso anche in mezzo al campo abbiamo giocatori prestativi se lo saranno senza palla riusciremo ad essere anche con palla però non si vince quasi mai individualmente con napoli non vinceremo mai non otteneremo mai un risultato un risultato positivo individualmente quindi abbiamo bisogno della squadra perché caraschella le sue cose se gioca le farà osimè nelle sue cose le farà possiamo limitarli e da squadra li limitiamo individualmente poi possiamo difenderci attaccare sì sicuramente giocheremo a due a tre mezzo al campo poi dipende dalle situazioni come ho già detto stiamo cercando di rendere un pochino più elastico il centrocampo un po più di libertà ai giocatori quindi nella libertà delle volte se se non sei bravo a rimetterti a posto il napoli transizione è fortissimo ma perché il napoli non gioca solo corto il napoli ha giocata lunga quindi se difendi su giocata corta loro ti giocano lungo e nel lungo preparano già un attacco preventivo in superiorità numerica quindi dovremo essere bravi qua pensando di dover correre perché se non corri indietro veloce se non copri campo in ampiezza in napoli caraschella le sue opportunità ce l'avrà di uno contro uno ma non dobbiamo permettere o dovremo limitare il due contro uno a favore del napoli perché loro se non ti attaccano sulla profondità ti attaccano lateralmente e cercano di portare più giocatori di te esternamente e l'obiettivo è arrivarci in parità quindi un centrocampista dovrà dar la parità o l'esterno dovrà dar la parità se ci portiamo il difensore a dar la parità diventa difficile poi aver parità barra superiorità in area di rigore dove dove sono forti perché onestamente hanno qualità poi la partita è lunga è difficile essere sempre ben posizionati su tutte le situazioni anche perché tante situazioni nascono da tuoi attacchi o una palla persa e un riattacco di conseguenza sei tra virgolette meno organizzato sulla situazione che è allenato e di conseguenza quello passa da tanto da quello che si vuole essere che si vuole fare sono convinto che domani faremo una partita gagliarda una partita da squadra il risultato non lo so però sono convinto che faremo una partita da squadra come abbiamo fatto a udine grazie a tutti